Animalisti italiani contro il comune di Giulianova e il sindaco Francesco Mastromauro. Oggetto dello scontro è ancora una volta il mancato rispetto della legge regionale 19 del 2014, che impone di fatto ai comuni costieri dell'Abruzzo di prevedere un tratto di spiagge in cui si è consentito l'accesso agli animali d'affezione. Una legge che recepisce un principio di civiltà, ribadito l'ex consigliere regionale De Verdi Walter Caporale, oggi presidente nazionale degli animalisti italiani, che però incomprensibilmente Giulianova e pochi altri comuni, tra cui Ortona, non hanno inteso adottare. Gli animalisti hanno fatto anche ricorso al TAR contro la delibera di divieto, ma si è ancora in attesa della sentenza. Peccato che la stagione balneare intanto è finita e senza libero accesso degli amici a quattro zampe sulle spiagge di Giulianova. Il precedente consiglio regionale aveva approvato un'ottima legge regionale che stabiliva un criterio preciso. Tutti i comuni hanno l'obbligo di individuare un tratto di spiagge per i cani, non tutta la spiaggia ci mancherebbe. Per chi non vuole stare con gli animali non ci sta, ma almeno un tratto. Una buona legge che alcuni sindaci, con capofile il sindaco di Giulianova, hanno deciso di non attuare. Ed è un fatto gravissimo perché il sindaco è un amministratore pubblico. In contrasto con una legge regionale, il sindaco di Giulianova ha fatto un'ordinanza che di fatto vietava di portare i cani in spiaggia. Abbiamo chiesto un incontro, lui si è sempre rifiutato di farlo. Abbiamo organizzato azioni di sobbettienza civile, manifestazioni, abbiamo presentato esposti, denunce, diffide, fino al ricorso al TAR. Il TAR ha rinviato la decisione da fine luglio a settembre, ora stiamo aspettando ancora altri giorni per capire che cosa è stato deciso. Ma il grave è che comunque abbiamo avuto una stagione balneare a Giulianova e anche in altri comuni come Ortona, dove in teoria era vietato illegittimamente di portare i propri animali in spiaggia. Hanno fatto benissimo le centinaia di abruzzesi che hanno fatto disobbedienza civile perché quelle multe sono multe che sarebbero comunque illegittime ed illegali.